Ciao a tutti, mi presento, sono Marika e lavoro per Ennegan e come hanno fatto Giovanni, Andrea, Gianni e Massimo mi piaceva poter avere la possibilità anch'io di condividere e raccontarvi un po' ovviamente in questo periodo di Covid-19 raccontare un po' quello che faccio io ovviamente a casa. Allora, ci si sveglia la mattina, ci si dedica comunque alla casa, si fa un po' comunque di ginnastica perché abbiamo il tapirulano però anche se non ci fosse il tapirulano si potrebbe utilizzare benissimo le scale, quindi questo potrebbe essere un consiglio. Lavoriamo ovviamente con, lavorando con Ennegan che ci ha dato comunque la possibilità degli strumenti, utilizziamo quindi, lavoriamo in smart working e quindi utilizziamo il contratto digitale, il telemarketing e quindi contattiamo i nostri clienti, ci facciamo delle belle chiacchierate perché insomma siamo a casa noi, sono a casa anche loro, insomma ci si fa un po' di compagnia. Oltre a questo, sentendo anche tutti i nostri colleghi, ovviamente facciamo più o meno le stesse cose che fanno i nostri clienti, i nostri, scusate, i nostri colleghi. Mi piaceva appunto condividere questa cosa con voi, un'altra cosa che volevo ringraziare Elena perché con lei abbiamo deciso di fare un protocollo d'intesa con Save the Planet e quindi occuparci di una raccolta fondi a sostegno appunto di questo periodo abbastanza critico. Abbiamo fatto questa maglietta con scritto andrà tutto bene e niente, io ringrazio tutti e io ovviamente utilizzo, io resto con Innegan. Ciao! Allora posso dirvi una cosa? È il terzo video che facciamo, ma sicuramente non andrà bene neanche questo me lo farà rifare. E allora, cioè veramente, allora va bene tutto per carità, io comprendo, però in questa situazione si sta riscoprendo tantissimo il modo di stare insieme e il modo di fare le cose insieme. Io mi presento, sono Dario Purpura, nonché il suo compagno, nonché il suo manager, cosa che nel primo video l'ha detto e il secondo si è dimenticata, ma va bene lo stesso. Allora, lavorare smart working ha i suoi vantaggi, il vantaggio primario è quello che si stanno riscoprendo tantissimi dettagli, si stanno riscoprendo cose che magari facendo le visite e andando dai clienti a fare gli appuntamenti magari o non avevi il tempo o non ci facevi caso, invece adesso in questo preciso istante con gli strumenti che ci ha dato Ennegan e di cui io veramente ringrazio tantissimo, si stanno riscoprendo tantissimi dettagli e fai più attenzione da non sottovalutare il lato, soprattutto umano, che è quello con cui un po' di tempo fa ne parlavo anche con Elena. Ragazzi, ma vi state rendendo conto che non riusciamo ad andare in bagno per fare i nostri bisogni? Perché le calle sono una dietro l'altra, cioè è veramente impressionante, si lavora di più stando a casa che quando lavoravamo e quando andavamo dai clienti, cioè diventa tutto molto più minuzioso e molto più nei dettagli. Poi volevo dire a Marika, il progetto di Elena e di Marika è un progetto bellissimo, volevo invitarvi sui social a partecipare a questo progetto perché ovviamente tutte le donazioni che verranno fatte saranno devolute a Save the Planet e saranno utilizzate da Save the Planet, come sappiamo che Save the Planet utilizza le proprie donazioni. La maglietta ovviamente che vi ha fatto vedere ha un logo sia di Save the Planet che di Marika e del suo brand. Non devi fare lo spogliarello. E la personalizzazione che non si vede perché ovviamente c'era la luce. In tutto questo io ringrazio Andrea, ringrazio Massimo, Gianni e Giovanni, ti ringrazio tantissimo, ringrazio Elena, stiamo riscoprendo veramente il valore umano, anche non stando insieme, non potendoci abbracciare, stiamo riscoprendo quel valore umano anche da parte vostra che siete i nostri capi, stiamo riscoprendo veramente il valore umano perché siamo molto vicini anche emotivamente e anche empaticamente. Marika ovviamente ha il suo hashtag che è hashtag anche di Ennegan, io resto con Ennegan. Io ne ho coniato uno da un po' di tempo che è il mio personalmente ed è questo che io resto con Ennegan a vita. Con questo vi saluto e ci vediamo alla prossima. e Marika con la sua t-shirt vi dirà che nonostante tutto andrà tutto bene. Ciao! Ciao!